Padre Antonio Lovetere, che sicuramente tutti voi conoscerete, non solo gli abitanti del quartiere Angeli, lascia la parrocchia di San Domenico perché, su decisione del Vescovo Mario Russotto, è stato spostato in un'altra parrocchia. Quale? La parrocchia San Marco, dove prenderò io il possesso il giorno 31 marzo, quindi a fine mese lascerò la parrocchia San Domenico. Sono dieci anni che ho vissuto in questa parrocchia, dove abbiamo cercato di rendere questo quartiere, questa porzione di città arricchente, con tutte le iniziative che voi già conoscete. Ma la cosa bella che mi porterò appresso dagli abitanti di San Domenico, sarà proprio questo, di sapere vivere insieme. Abbiamo scommesso tantissimo su questo quartiere e che anche questo rapporto bello che si è costruito con la gente del quartiere ha avuto anche un buon esito nella vita pastorale di questa nostra parrocchia. Non dimentichiamo appunto che lei per rendere vivo il quartiere si è anche occupato del presepe vivente, di tantissime altre iniziative, anche stive, che aveva chiesto la gestione del campo di bocce sistemato dall'amministrazione comunale mai aperto, che serviva appunto per far inserire i ragazzi del quartiere. Sono tantissime le iniziative che ha portato avanti in questi anni. Sì, anche perché c'è stata una buona sinergia sia con la scuola sia con il comitato di quartiere e in parte anche con l'amministrazione comunale. Questa intesa è stata certamente molto importante dove abbiamo potuto realizzare tanti obiettivi, ma non per me, ma per la stessa gente che abita nel quartiere o nel centro storico. Sicuramente anche a San Marco andrà a fare un ottimo lavoro. Un saluto che vuole dare attraverso la nostra telecamera ai suoi parrocchiani. E che vi ringrazio perché mi avete detto che farò un buon lavoro a San Marco. Da parte mia c'è tanta buona volontà e disponibilità di farmi conoscere per quello che sono, senza nessuna maschera, ma anzi cercando di collaborare con la gente, con questa nuova parrocchia, dove cercherò anch'io insieme con loro di rendere viva quel quartiere. Nel nome è ringraziato tutta quanta la comunità che so che mi accoglierà con tanto affetto. Don Biagio Asarisi è il nuovo parroco quindi della parrocchia San Domenico. Come si sente innanzitutto? Beh, dire il vero, sendo un po' confuso, diciamo, perché vedo che c'è molto da realizzare, da fare. Perché è stato un incarico, mi è stato affidato come un fulmine al Cessereno dal Vescovo. Spero adesso di non deludere le aspettative del Vescovo, anche della comunità, anche di San Domenico. Penso che non sarà facile continuare. Quello che ha fatto Padre Antonio, ci proverò ad essere un po' all'altezza della situazione. Convido nella benevolenza dei parrocchiani. Farò il mio meglio, secondo le mie possibilità, naturalmente. e cercheremo di costruire insieme qualche cosa, di portare avanti qualche cosa di bello per quanto riguarda il territorio, la fede, soprattutto che dobbiamo cercare di far crescere, progredire con l'aiuto del Signore. E convido nella benevolenza di tutti. Grazie.